E' nella mia testa, nella mia testa, nella mia testa, nella mia testa! Un orologio? Spaventato da un orologio? Questo non è nella mia testa! Vattene via, o finirai dritto nell'obbrio! Penso che sceglierò la terza opzione! Vai, rotolone! Oh, cavolo! Plus Ultra! Ma qui non c'è niente da modificare! Guarda, guarda! Torna in voga il Medioevo! Che sfortuna! Ho un colazione, ora di colazione! Ectoplasma marino, pescatore fantasma, sommozzatore spettro! Ha preso la spada e io l'ho spinto laggiù! Dai, vieni! È caduto proprio... Cosa? È scomparso? Sicuro di aver visto un pescatore fantasma? Di cosa parla mio cugino? Era proprio lì! Era uno spettro e voleva arpionarmi! Dobbiamo andarcene via! Adesso! Ok, ok, ora calmati, Ben! Prima di fare scelte avventate, vediamo se riusciamo a catturare questo fantasma! A me è avvenuta un'idea! Io mi resterò lì dietro! Perché sono l'esca? Era proprio necessario farmi indossare il cartello? Perché è il tuo fantasma! Eh sì, il cartello ti dona! Non è il mio fantasma! Qui? Spettro, spettro, spettro! Niente! Magari dovremmo... Ti avevo avvertito! Oh, cavolo! Ti attendono orrori al di là di ogni comprensione! C'era davvero un fantasma! Preparati ad unirti a me negli abissi! Non ne ho voglia! Voi dovevate andarvene via! E tu non dovevi tornare! E così ci siamo guadagnati un po' di tv gratis! Sciocchi! Fatemi uscire! Sono la vostra unica speranza! Fermi! Io l'ho già sentita questa voce! Carl con la C! Lo sapevo! È in combutta con suo fratello Carl con la K! Chiedono 50 dollari a notte e poi terrorizzano gli ospiti e non gli danno la colazione gratis! Sì, devo ammetterlo! Stavo cercando di spaventarvi per bene! E ci sarei anche riuscito se non fosse stato per il ragazzino che si trasforma! Ma vi giuro che io non lavoro con mio fratello! Volevo farvi scappare per salvarvi dai suoi piani malefici! Tutte scuse, Carl con la C! Hai fallito! Noi resteremo! Niente potrà spaventarci a... Congratulazioni! Avete vinto la colazione gratis! Peccato che sarà il vostro ultimo pasto! Ehm, vorrei sapere con chi sto parlando! Con la malvagità senza riposo! Evidentemente giocare con la magia nera trasforma te in un mostro e tuo fratello in un fantasma! Ehm, pazzesco! Io ho cercato di avvertirvi ma non mi avete ascoltato! Voi diventerete la colazione gratis! Normalmente direi ve l'avevo detto ma ora sono troppo spaventato! Penso sia il momento di rispondere al fuoco, Ben! La colazione è servita! È ora di mangiare! Ben! L'orologio! Ben! È il tentativo vegetale! Ma adesso ho davvero troppa fame! Bene, è nei guai! Serve Carl con la C! Fratello, è il momento di venire con me! Che fai? Carl, non si gioca con le cose affilate! La lanterna è la fonte del suo potere! Ci ero arrivato! Oh no! Dobbiamo aiutare Carl con la C! Carl, tieni duro! Veniamo ad aiutarti! Tranquillo, l'avete già fatto!